Incendio in una discoteca della Spagna, precisamente a Murcia, Murcia, domenica. 13 vittime in socca, insomma veramente tante persone morti, e sono stati individuati questi corpi carbonizzati, ma dovranno essere eseguiti test del DNA per identificarli. Solo 5 i cadaveri che per il momento sono stati identificati, ma gli altri no. E ci sarà bisogno di andare ad analizzare gli strumenti vicini ad essi, quindi spassoni da denti, lasov, i pettini utilizzati, per cercare di comprendere di chi si tratta, va bene? Incendio in particolare coinvolto i locali del Theater e della Fonda Melagros. E' stato ubicato anche un VIP dove si sono centinaia di persone che stavano godendo lo spettacolo del grande DJ Javi Boss, che non sapevano quello che di lì a poco sarebbe accaduto a timi terribili, devastanti, incendi, insomma, e la carbonizzazione dei loro corpi. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, utenti di YouTube, iscrivetevi, commentate, ciao da andate a vedere.